eccola il capatino è da collezione proviamo a gonfiarlo questa KTM c'è un'altra moto da collezione un'altra moto controllo benzina ho variato anche il tubo è marcia quanti anni ce l'hai fermo? meglio che non lo viva almeno 5 la scarabanzia alla sella non gliela remontiamo Giuseppe accende il suo KTM è un modo perfetto per documentare un'incortunità dopo anni di collezionamento poi di destra è scomodo non? 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 non?